ecco lì Andrea impressioni a freddo diciamo a freddo, a freddissimo Alberto, tutto bene? eccoli paura, paura bello, è stato bello un'emozione unica ma tu lo sai che io ho paura di tutto però sei stato coraggioso ti sei lanciato esatto, fatelo anche voi se l'abbiamo fatto noi lo potete fare anche voi ciao